Il comune costiero di Silvia è stato nuovamente insignito dalla bandiera verde, il vessillo che indica l'appartenenza al circuito delle città turistiche a misura di bambino. Un riconoscimento che viene assegnato annualmente ai comuni italiani e spagnoli che risultano dotati di spiagge e fondali che consentono ai bambini di giocare in assoluta sicurezza e che dimostrano la disponibilità di attrezzature dedicate ai più piccoli, spazi adeguati tra gli ombrelloni, opportunità di svago e divertimento per i genitori. Una equipe di pediatri ha riconfermato Silvia come bandiera verde, dunque città a misura di bambino. Sicuramente è un riconoscimento che noi apprezziamo anche per il lavoro che stiamo svolgendo con la nostra amministrazione, soprattutto per incentrare questo turismo che sia anche un turismo familiare sul nostro territorio. Non c'è solamente la novità della bandiera verde perché il comune di Silvia è appena rientrato dopo aver ricevuto un altro importante premio? Sì, proprio ieri abbiamo ricevuto la bandiera gialla dei comuni ciclabili d'Italia, siamo entrati in questa rete FIAB per cui Silvi mancava, un bel riconoscimento, un punto di partenza sicuramente perché dobbiamo migliorare, ma ci siamo messi in linea con tutte le realtà di questo territorio. Silvi necessariamente deve sfruttare questo turismo, deve portare avanti i propri riconoscimenti perché lo merita e perché ha una natura prettamente turistica, sportiva, familiare, dunque dobbiamo esaltare le nostre qualità. L'obiettivo è quello di ripartire proprio dal turismo, senza tralasciare le altre attività produttive della realtà locale. Io ci terrei a dire che stiamo facendo un grande lavoro di squadra, grazie agli assessori e ai consiglieri incaricati perché veramente stiamo rilanciando un settore che a Silvi ormai si stava spegnendo. Avremo notevoli manifestazioni, eventi, a poco lo presenteremo anche il cartellone. Io dico che Silvi vuole ritornare quella che era.